Con la presentazione delle liste entra nel vivo la campagna elettorale scafatese. Dopo circa due anni di commissariamente di una città visibilmente regretita, i cittadini si apprestano a vivere il rush finale che determinerà il nuovo sindaco e la nuova giunta comunale. Sembra ieri lo scioglimento per infiltrazioni mafiose con annesso processo che non sembra finire, ma lo scenario di confusione e frammentazione della politica cittadina sembra lo stesso del 2013. 9 per la corsa sindaco della città per 22 liste per circa 450 candidati al Consiglio Comunale. 4 liste a supporto del candidato Michele Russo, voluto dal locale Partito Democratico, tutte civiche, Democratici e Progressisti, Polo Civico, Scafati Moderata e Sostiene Scafati. 5 liste per il candidato Cristoforo Salvati, militante storico di Fratelli d'Italia, presente come simbolo tra le liste insieme a quello della Lega Salvini e dalle civiche Identità Scafatese, Insieme Possiamo e Salvati Sindaco, unite dallo slogan Andare Oltre. 5 le liste a supporto del candidato Antonio Fogliame, espressione di una coalizione conforme alle linee programmatiche dell'amministrazione Aliberti, presente il simbolo di Forza Italia con le civiche Noi per Scafati, Alleanza Popolare, Avanti per Scafati e Azzurri. Corsa alla poltrona di sindaco anche per Marco Cucurachi, con il supporto di tre liste civiche, Marco Cucurachi sindaco, adesso scelgo Scafati, e l'altra Scafati. Corsa solitaria per il veterano Michele Raviotta, con la lista civica Cotucit, forte di anni di militanza sul territorio e più volte presente nel Consiglio Comunale. Prima volta per Diego del Regno, già consigliere comunale dell'ultima amministrazione, con la lista civica, rinascita civica Scafati, Diego del Regno sindaco. Prima volta anche per il giovane candidato a sindaco, Francesco Carotenuto, con la lista Scafati Arancione, che porta in doda l'esperienza civica e sociale di più soggetti da anni attivi sul territorio. Candidato a sindaco, anche il musicista, più volte consigliere comunale ed assessore, e spedito De Marino con la civica Noi Scafati De Marino sindaco. In campo anche il Movimento 5 Stelle, supportato dalla presenza territoriale della senatrice Luisa Angrisani e dalla deputata Virginia Villani, con candidato a sindaco l'attivista Giuseppe Sarconio.